amici di battista 70 phone vi presento le wood effect cover sono cover in tpu con effetto legno come potete vedere abbiamo chiaro e scuro andiamo a vedere come calza sono in tpu non sono in pelle non sono in legno l'effetto è solo quello del legno devo dire che è molto elegante porta la cam a livello abbiamo un minimo di spessore questo è un dammi come al solito non ci fate caso ma potrebbe esserci qualche leggera in perfezione come vedete la parte inferiore e superiore è scoperta di modo che possiamo avere accessibilità a tutti i tasti qui comunque rimane una sorta di gradino di modo che anche se dovesse andarvi giù in questo modo non va a picchiare direttamente e idem sulla parte posteriore poi va beh se volete ulteriore protezione trovate le nostre cover le nostre pellicole vetro nello shop quindi lì non avete più problemi e devo dire che comunque anche l'impugnatura ne ne guadagna frontalmente è quasi invisibile dietro c'è questo suggestivo effetto legno e il grip migliora essendo comunque cover in tpu le trovate nel nostro shop con questo concluso saluto da loris alias battista 70 per battista 70 phone